Retroscena di mercato, soddisfazione per il primo posto dopo 4 giornate con 10 punti e nuovi obiettivi nel mirino. Tempo di bilanci in conferenza stampa per il direttore sportivo del Bari Giancarlo Romairone. Non nega il DS che il ritiro di cascia ha inciso sulle scelte di una sessione di trattative, chiusa con 11 arrivi. Qualche giocatore che si pensava magari che potesse essere sul mercato, in realtà ha dimostrato caratteristiche e attitudini giuste. Su altri profili che pensavamo che invece potessero rimanere con noi, in realtà hanno evidenziato delle difficoltà a livello tecnico-tattico a interpretare quella che è l'idea di calcio. Il calciomercato del Bari non è però ancora chiuso. Imminente la firma del terzo portiere, il trentenne Gianmarco Fiorì, ex tra le altre di Gozzano e Juve Stabia, pronto a sottoscrivere un contratto annuale. È stata allestita una rosa, secondo me, numericamente adeguata, al di là dei numeri e delle restrizioni, per essere pronti a qualsiasi evenenza. Di conseguenza questo vale anche per la porta, perché almeno tre portieri di un certo livello e più noi addirittura manterremo il quarto, che è il ragazzo che sta con noi da tempo perché lo sta meritando e sta maturando con noi. Credo che sia il numero giusto. Fiorì sarà fuori dalla lista dei 24 over, pronto a subentrare in caso di infortuni di Frattali e Marfella. Nell'elenco sarà reintegrato Zaccari Amlili, fuori fino allo scorso turno di campionato dai piani tecnici di mister Auteri. La valutazione sul fatto che potesse essere spostato era solamente e puramente nel senso di andare a rinforzare una squadra e di non chiudere un giocatore che non aveva le caratteristiche per il centrocampo pensato inizialmente. Siccome è un ragazzo serio, a posto, che si è sempre comportato bene, a chiusura del mercato ho parlato con il ragazzo e ho presentato a lui la possibilità di essere reintegrato in Rosa. Altro acquisto in casa sarà Simone Simeri. L'attaccante sta recuperando da un infortunio muscolare e presto prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2021 fino al 2023. È un discorso avviato da tempo, in tempi non sospetti si è parlato di questa cosa con lui e con il suo agente. Il mercato, voglio dire, poteva portare distrazioni ma che poi nella realtà, come avete visto, sono state fugate per tempo perché nella realtà noi stavamo pensando e stavamo parlando per un suo prolungamento e quindi credo che nelle prossime ore verrà poi formalizzato e sancito questo accordo. Domenica il Bari non scenderà in campo, complice l'esclusione dal campionato del Trapani, prossimo avversario. La prossima tappa è Monopoli, derby in programma mercoledì 21 ottobre. La certezza di Roma-Irone è la massima sinergia tra dirigenza e staff tecnico. Ma io credo che la cosa importante sia stato il feeling che si è creato fin da subito tra me e lui e poi tra il presidente, lui e me. Quindi questo poi ci ha portato a valutare in ogni piccola sfumatura la rosa che c'era prima e le eventuali correzioni da fare.